Dentro me sei quel raggio nella notte C'è un amore universale con le iniziali maiuscole e quindi è qualcosa di veramente che va oltre Sì assolutamente che riguarda tutti Tra l'altro proprio a proposito di questo pezzo Irani ha detto e si può testimoniare Mi ha toccato fin dal primo ascolto È vero mi emoziona ogni volta che la canto E poi proprio io ogni volta che l'ascolto E ogni volta mi fa venire i brividi Cosa chiedere di più ad una canzone? È un video quindi così la si può anche vedere Vai bene video C'è 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 potete vederlo sul nostro sito raditalia.it Vido che è uscito oggi proprio in concomitanza con questo nuovo bel singolo Bel servizio di bicchieri, nuovo acquisto? No, ho solo fatto il pieno all'auto Da Kuwait ogni 30 litri serviti ricevi un bicchiere guzzini in regalo Due con Kuwait Hyperform Collezionali, promozione valida fino al 12 novembre Info regolamento su kuwait.it Basta un pesi! Grazie a prendermi i prodotti di Penny eh Sono ottimi Ma che me lo dico a fare? Cosa cerchi quando fai la spesa? Freschezza? Comodità? Risparmio? Per avere tutto Basta un Penny Fino a domenica con Penny Card Spinaci in foglia surgelati Orto mio un chilo O prossimo video samara Cosa ringbio? P